ciao amici oggi vediamo insieme i benefici di un frutto straordinario che io adoro per me è un piacere peccaminoso perché è dolce cremoso ma senza sensi di colpa perché ha solo zuccheri naturali anzi è tutto naturale pensavo al gelato magnum della pubblicità ma quello non è naturale infatti io mi concedo solo piaceri trendy e sani se vi iscrivete al canale potete farlo anche voi allora il dolce di oggi è anzi sono i datteri io adoro la varietà mejoul quelli più grossi perché sono cremosi e dolci come un dessert in descrizione vi metto il link a un prodotto con ottime recensioni ora vediamo insieme gli straordinari benefici dei datteri per la salute e per chi arriva alla fine del video c'è un segreto scientifico sui datteri con cui stupire gli amici se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace altri nuovi video i datteri sono il frutto della palma da dattero che cresce in medio oriente il nome dattero deriva dalla parola greca dito visto la loro forma allungata il dattero è un frutto molto nutriente calorico allora fa ingrassare c'è un trucco siccome è molto nutriente naturale basta mangiarne uno o due per sentirsi soddisfatti se fate così non fanno ingrassare anzi se volete un'idea golosa per un dessert creativo a base di datteri c'è un video in descrizione i datteri contengono carboidrati fibre e proteine come minerali troviamo potassio magnesio rame manganese ferro sono ricchi anche di vitamina b6 il dattero è un frutto antiossidante ricco di flavonoidi che riducono le infiammazioni e il rischio di malattie come diabete e alzheimer altri antiossidanti nei datteri sono i carotenoidi che proteggono da malattie cardiache e della vista e l'acido fenolico un potente anti infiammatorio sto per dirvi tanti altri benefici dei datteri ma prima iscrivetevi al canale per vedere altri video interessanti come questo e attivate la campanella delle notifiche altrimenti youtube non vi avvisa grazie al potassio i datteri riducono il rischio di infarto e sostengono il sistema nervoso contengono anche fosforo protettivo del cervello e calcio amica di ossa e intestino parlando di intestino le fibre favoriscono la regolarità intestinale contro la stitichezza la presenza di ferro contrasta l'anemia e stimola la circolazione per proteggere il sistema cardiocircolatorio aiuta anche il magnesio efficace per abbassare la pressione ora condividete questo video con i vostri amici è il segreto per stupire gli amici non ti sfugge niente eccolo i datteri hanno una particolarità sono un super food un cibo super nutriente che cresce in un ambiente secco arido avaro di risorse per l'agricoltura un posto dove ci sono 40 gradi all'ombra come mai i datteri servono a sostenere l'essere umano in un ambiente ostile dove non cresce quasi niente altro per noi che abbiamo a disposizione tanti alimenti in italia in particolare il dattero non è solo un frutto salutistico ma un super integratore funzionale questo grazie all'equilibrio tra umidità cioè acqua proteine zuccheri a lento rilascio zuccheri ad assorbimento rapido minerali che sostengono le funzioni importanti del corpo come pensiero e circolazione vi piacerebbe leggere un ebook sui datteri e i loro benefici per dimagrire votate nel sondaggio che trovate nella i cliccabile qui in alto per approfondire iscrivetevi al canale e anche alla mia pagina facebook simona vignali naturopata e al gruppo trendy e sani per sostenere il mio lavoro restare aggiornati e chiedere consigli naturali in descrizione il link al mio sito a tutti i miei libri ed ebook e alle mie playlist video mangia sano e vivi meglio